Sì, siamo liberi di girar se vuoi dove noi sognamo Tante altre realtà che intendono offrire i loro servizi ai viaggiatori en plein air Pilot e Bavaria che appartengono allo stesso gruppo Corrono in parallelo suddividendosi alcuni compiti Pilot, ad esempio, presenta il nuovo integrale Aventura G740 LCA Con telaio ribassato, letto centrale e toilette accanto Nuove piante anche per modelli di primo accesso e sempre più accurati Come il profilato Aventura P716 LGA con matrimoniale discendente su garage Bavaria, dal suo canto, produce mansardati semintegrali e integrali Come il T71 LG con letto basculante Inoltre, il Motorhome I740 LG con letto su garage e toilette antistante Corre da sola senza alcun gruppo Jotty Line Ma avrà come partner per tre anni la Citroen con i suoi jumper Delle tre gamme in produzione, la media Terry è la più diffusa Col 65% di vendite di mansardati e profilati Sul T37B a letti gemelli È ora inserito un matrimoniale discendente elettrico Che lascia 188 cm di altezza libera nella zona living Solo 237 cm di altezza esterna Più nota per gli integrali, la tedesca Euramobil produce anche van e profilati Da segnalare la nuova gamma Profila T in quattro versioni con basculante opzionale A prezzi convenienti intorno ai 50.000 euro Con preziose tecniche costruttive come nel profila P670SB Doppio pavimento con impianti all'interno Capace di alloggiare altri vani a pozzetto Davvero singolare il locale toilette Questo invece è il gigantesco Motorhome 850 QB Con letto centrale in coda e toilette passante Dominante anche tra le caravan La Bürstner ne produce una quarantina di modelli Di tutte le misure, suddivisi in 5 gamme Rinnovata la piccola Premio 385TK Esposta in abbinata alla Fiat 500 Della gamma Averso Anche la conveniente semistanziale 550TK Larga 2,5 m Molto singolare la Averso Plus 440TK Con matrimoniale basculante Con lievi modifiche per la stagione a venire Specialista di minivan polivalenti Il padovano Adami prosegue su questa strada Con una nuova proposta su traffic con tetto a soffietto Letto posteriore solidale allo schienale E blocco servizi asportabile Da montare all'occorrenza Polivalenza allo stato puro Nuove anche le verandine da retro Fiamma è un marchio storico nel settore del caravanning Per quanto riguarda l'accessoristica per il veicolo ricreazionale Tra i prodotti di punta Naturalmente le verande e i portabici Tra questi una novità Il carry bike che è installabile sul gancio traino della caravan Debutta in fiera il Plenair Shop La linea di prodotti di merchandising di Plenair Magliette, cappelli, marsupi, zainetti personalizzabili Anche con originali ricami Per oggi è tutto Ci vediamo ancora domani con Plenair Web TV Sì, siamo liberi Di girar se vuoi Dove noi sognamo Grazie a tutti Grazie a tutti